Oggi siamo a Peccioli, in provincia di Pisa, presso lo studio del dottor Renato Corona, che ha gestito i suoi primi due casi con il Navident. Dottore, che tipo di esperienza ha avuto? Allora, quello che abbiamo fatto oggi, si è trattato di mettere degli impianti nei quarti quadrati, ambedue di due impianti per uno. E la scelta di questa metodica, o comunque di avvicinarsi a questa metodica, mi nasce molto dalla paura, spesso che trovo dalla difficoltà della pianificazione implantare, in riferimento a strutture vascula nervose che occorre rispettare nel caso. Il lavorare fino alla cieca induce alcune remore, spesso e volentieri, anche la non fattura degli impianti stessi. Questo sistema qui, sicuramente, ha avuto i due casi che abbiamo fatto, al di là di alcuni per l'apprendimento, che è piuttosto abbastanza lunga, non molto semplice, però sicuramente mi ha permesso di fare una planificazione e una realizzazione, diciamo, piuttosto prevedibile. In relazione al fatto, penso che uno dei due casi c'era poco osso in senso verticale, per cui, di rispetto del nervo mandibolare, è stato pari pari la programmazione a quello che abbiamo realizzato. questo, diciamo, tornatino, ci saranno le difficoltà di apprendimento, ma, per quanto riguarda, qualche paura in meno, penso di poter dire. Perfetto. Dottor Colonna, grazie e buon lavoro. Grazie mille. Grazie a te. Grazie. Grazie a te.